Benessi quindi benvenuti in questo nuovo video, siamo qua in questo video per andare un po' a parlare delle ufficialità di mercato e in questo video andiamo un po' a parlare delle diverse ufficialità non di tutte ma delle più importanti conseguite nell'ultimo periodo perché poi in quest'ultimo mese e mezzo diverse ufficialità sono uscite fuori in ambito internazionale, in ambito nazionale e andiamo un po' quindi a parlarne la prima in casa udinese, molto molto importante, rinnovo anzi, primo contratto professionistico per Pafundi trequartista classe 2006 che firma un contratto triennale cioè fino al 2024 con l'udinese ed è un primo contratto professionistico importante perché è un giocatore con una visione di gioco, qualità, tecnica molto molto importanti, soprattutto per l'età perché poi è un 2006 è molto molto giovane, ottima prospettiva per lui e giustamente l'udinese lo blinda puntandoci comunque è una responsabilità importante perché essere professionista a quell'età non è da tutti e avrà l'opportunità di cimentarsi in primavera e crescere lì comunque l'ubito sta già facendo molto molto bene è un calcitore di cui stare molto attenti per il futuro detto questo, notizia in America in realtà perché Burki lascia l'Europa ed intraprende questa nuova avventura in MLS e lo fa firmando con il Center of East City portiere classe 90 che firma un quadriennale fino al 2025 vi ricordo che in America non è come da noi che la stagione parte da luglio ma parte da dicembre, da gennaio comunque, dicembre-gennaio mentre da noi a giugno-ruglio il periodo dei contratti quindi fino al 31 dicembre del 2025 la notizia è molto importante, un portiere che gli ultimi anni è stato un perno fondamentale del Borussia Dortmund di garanzia, non è stato mai un portiere straordinario un buon portiere, un portiere di discreto livello che alla fine ha sempre fatto il suo sia in campo che extra campo e riparte alla venerata di quasi 32 anni dalla MLS dove la Center of East City rappresenterà certamente un perno per i prossimi anni lo dimostra questo il contratto pluriannale detto questo, notizia in caso Sasuna rinnova molto importante perché il Cimi Avila rinnova fino al 2026 5 anni di 4 per lui, attaccante classe 94 che tra l'altro nel contratto viene aggiunta anche una clausola da 30 milioni di euro quindi se una squadra lo vuole comprare deve sborsare 30 milioni che sono comunque molti ma per un attaccante di categoria cioè il classico attaccante di categoria che tu sai che quei 10-15 gol alla stagione te li fa e lo Sasuna fa molto bene a blindarlo perché è un ottimo attaccante, ripeto nel campionato spagnolo ha sempre fatto bene e secondo me continuerà anche in futuro ripeto, in questo senso la notizia tra l'altro non è neanche vecchio perché ormai è nel pieno della carriera quindi può ancora dare tanto e notizia sicuramente importante per lo Sasuna che avrà come anche nelle prossime stagioni l'obiettivo comunque di migliorarsi ma in primis di centro alla salvezza e grazie a Cimiavela può stare tranquilla in questo senso rinnovo anche in casa Sassuolo di un altro giocatore di alto livello cioè quello di Frattesi centrocampista classe 99 che firma fino al 2026 con il Sassuolo quindi rinnovo importante nel tentativo e nella dimostrazione di blindare il calciatore anche se c'è da vedere Frattesi secondo me rimarrà ancora qualche stagione al Sassuolo perché anche lui non penso vorrà fare il salto più lungo della gamba e andare già alla prossima stagione dopo aver fatto una buona stagione per carità perché gli ordini di mister Dionisi Frattesi ha fatto molto bene dopo che tra l'altro fece bene l'anno scorso in B con il Monza un giocatore di qualità importante che ho preso anche al Fanta perché è forte porta anche diversi bonus però una mezzala che si sa inserire a qualità tecnica è un giocatore importante anche struttura fisica perché non è assolutamente mingherlino ha una buona struttura fisica completo come centrocampista può tranquillamente essere utile in una rosa di una squadra che lotta per i primissimi posti però giustamente anche lui vuole andare un po' step by step è ancora giovane quindi può ancora dare tanto però evidentemente il Sassuolo lo vuole blindare adesso mi si può dire blindare comunque blindare ma ripeto la prossima stagione la vedura che se ne vada anche se l'Inter è interessata secondo me più magari tra due stagioni due tre stagioni magari sì però adesso forse è anche giusto per la sua crescita che rimanga Sassuolo colpo in casa d'Ech ci sposiamo quindi nel campionato polacco arriva ufficialmente infatti Keziora terzino classe 94 che lascia temporaneamente quindi in prestito la Dinamo Kiev sapete bene che nei campionati esteri perché in Italia non è stata applicata questa roba in Italia non si possa andare a prendere giocatori da Ucraina e Russia mentre negli altri campionati sì si possono contattare questi calciatori e prenderli temporaneamente fino al termine della stagione così quindi ha fatto il Lech che per le prossime giornate avrà a disposizione un terzino di livello come Keziora probabilmente la Dinamo Kiev giocatore più della carriera può un terzino che sicuramente per un Lech che lotta per i primissimi posti nelle ultime giornate del campionato polacco potrà essere più che utile quindi colpo di mercato sicuramente importante detto questo proseguiamo rimanendo un po' nei campionati nordici in questo caso in casa Copenhagen scusatemi un po' il gioco di parole perché arrivo ufficialmente amo direttamente dall'Ammarby questo è un colpo di mercato da assolutamente seguire un calciatore che a me piace tantissimo ha la classe 2002 che arriva per circa 4,3 milioni di euro a Copenhagen e firma fino al 2026 per i prossimi 5 anni ed è un colpo importante secondo me un giocatore funabolico sa saltare l'uomo brevilineo velocità rapidità porta comunque molti bonus a casa è un ottimo calciatore ottima prospettiva per lui mi piace tantissimo l'Ammarby è sempre fatto bene e adesso chissà che non possa mettersi più in risalto comunque una squadra non di primissima fascia ma al tempo stesso importante che gioca anche l'Europa come il Copenhagen quindi secondo me può fare bene cifre altine ma neanche troppo e attenzione a lui perché per il futuro può rappresentare un giocatore da seguire assolutamente detto questo l'Udinese si rinforza e lo fa con due colpi in vista la prossima stagione che arriveranno poi ufficialmente il primo luglio segregeranno l'Udinese e sono Ebosele e Lovric quindi due colpi stranieri il primo Ebosele è un terzino classe 2002 che firma fino al 2027 con l'Udinese giocatore che negli ultimi anni ha giocato in Inghilterra al Derby County principalmente in Championship ed è così il primo colpo di mercato che andrà a forzare l'Udinese della prossima stagione giocatore di buona prospettiva che l'Udinese evidentemente ha valutato anche da vicino perché il Watford gioca in Premier quindi ha gli scout che possono valutare direttamente sul campo comunque direttamente lì i calcettori dei campionati minori giocatore che tra l'altro è di nazionalità illandese chissà che non possa far bene comunque sappiamo che l'Udinese poi sugli esterni ha sempre fatto colpi importanti vedi Molina che sta facendo molto bene e chissà che proprio non possa essere in quest'ottica cioè visto che anche Soppi per esempio a me piace molto Soppi come rincalzo mi piace tanto Soppi onestamente e Bose chissà che non possa proprio essere in ottica cessione di Molina vedremo un po' l'altro colpo è quello di Lovric come vi dicevo qui stiamo parlando di un trequartista classe 98 che firma anche lui fino al 2027 arriva a zero anche lui e del primo è il secondo colpo di calcio mercato per l'Udinese la prossima stagione giocatore che può giocare sulla trequarti può giocare anche sulla mediana abbastanza utile in mezzo al campo e viene descritto come un giocatore di qualità comunque profilo assolutamente intrigante che va a rafforzare le parti centro campo o trequarti che dirsi voglia per la prossima stagione credo che almeno in un primo momento a meno che non si scopra un giocatore di altissimo livello verrà aggregato come rincalzo come gregario ma chissà che poi non posso ritagliarsi un ruolo importante nelle prossime stagioni dell'Udinese rimanendo in Italia col rinnovo scusatemi in casa Atalanta Jim City infatti rinnova il proprio contratto fino al 2026 quindi 5 anni di contratto difensore classe 93 che resta così all'Atalanta ed è comunque un ruolo importante perché stiamo parlando di un giocatore per quanto bistrattato di buon livello a me Jim City è sempre piaciuto un giocatore che non ha mai giocato in grandissime piazze a bene lento però all'Atalanta di Gasperini è stato sempre funzionale col passare del tempo si è sempre ritagliato più spazio e in queste ultime annate è un perno della difesa importantissimo quindi rinnovo più che meritato e più che importante per l'Atalanta che comunque gira bene anche se in questa stagione sta facendo un po' di fatica soprattutto in campionato dove qualche scopita di troppo forse si è un po' adagiata l'Atalanta mentre aveva forse più fame nelle ultime nelle ultimissime stagioni quest'anno un po' deludente però resta il fatto che Jim City è un perno importantissimo della difesa quindi rinnovo più che meritato ma così com'è è un nuovo importantissimo quello di Brozovic che rimarrà fino al 2026 all'Inter quindi anche lui 5 anni di contratto c'è una pista classe 92 che rinnova quindi con la formazione nero-azzurra ed è un rinnovo importantissimo perché Brozovic era cortecciato dal Barcellona dal Liverpool anche comunque da diversi club da diversi top club europei alla fine la sua scelta è quella di rimanere comunque in un club importante perché l'Inter non sarà uno dei top 5 club europei in Europa però sicuramente nei 10-15 c'è a livello di nomea a livello anche di calciatori presenti in rosa Brozovic si è fatto è un giocatore così importante che quando non gioca si sente la sua mancanza e questo vi fa capire quanto sia effettivamente importante nelle gerarchie della squadra ha fatto sia bene con Conte prima e soprattutto anche con Inzaghi poi giocatore importantissimo registro di alto livello ancora nel primo della carriera perché ha quasi 30 anni non è assolutamente considerabile come bollito anzi diversi anni ad alti livelli ancora li può fare quindi rinuovo più che meritato così come è meritatissimo rinnovo di Falcone con la Samp Falcone anche lui rinnova plurianalmente fino al 2025 quindi 4 anni di contratto portiere classe 95 che resta a Genova ripeto strameritatamente portiere che da quando è stato chiamato in causa dopo l'infortunio da Udero ha sempre fatto bene garantisce sicurezza interventi importanti farà anche calcio di rigore e io ve lo dissi da tempo cioè io ve lo dico da Cosenza che è un portiere da Serie A cioè Falcone meritava una chance in Serie A perché è un portiere che è uno dei pochi perché solitamente i portieri buoni sono quelli che ti fanno ottime parate però poi ti fanno anche la cappella ecco io l'anno scorso per quanto la dimensione di Cosenza non sia straordinaria per quanto la B non sia straordinaria però io non mi ricordo mi ricordo pochissimi io posso dirvi forse due o tre gol per colpa del portiere nostro ma pochissimi si conta subito in una mano i gol presi per colpa del portiere anzi spesso e volete ci ha salvato veramente un portiere di altissimo livello che merita e stramerita di nuovo alla Samp e spero che possano vendere laudero che per carità è forte però comunque Falcone secondo me lo è assolutamente di più e spero che anche dalla prossima stagione ci possano puntare definitivamente perché è un portiere che merita di giocare titolare in Serie A comunque speriamo che effettivamente poi lo possa dimostrare anche sul campo questo mio pensiero ultime due notizie e entrambe diciamo legate al Francoforte perché in Germania più che altro lo Schalke infatti riscatta Zalazar direttamente proprio dal Francoforte centrocampista classe 99 che firma fino al 2026 quindi 5 anni di contratto con lo Schalke 2 milioni di euro di riscatto cifre anche abbastanza importanti per uno Schalke che attualmente merita in Bundesliga 2 sta cercando di fare un campionato per tornare in Bundes ma non è semplice comunque la Serie B tedesca non è assolutamente semplice come campionato lo Schalke tra l'altro veniva da una passata stagione che dire e di fine deludente dire poco per cui comunque rappresenta questo un colpo importante perché Zalazar è un giocatore di altissimo livello per la categoria e per il progetto Schalke ancora di più quindi Francoforte che perde un calciatore che diciamo in prima squadra non avrebbe praticamente mai trovato spazio per cui alla fine è un problema però fino a un certo punto ha dimostrato di valere la categoria di valere quindi lo Schalke e pronto il riscatto per lui e quindi questa è la notizia l'altra notizia però è un l'ennesimo colpo di mercato per il Francoforte in vista alla prossima stagione perché dopo l'arrivo di Colomuani a 0 direttamente dal Nant arriva a 0 anche Onguene questo per il reparto difensivo difensore classe 97 che arriva a 0 da Salisburgo e firma fino a 2027 quindi sanno in contratto altro colpo molto molto intelligente secondo me perché Colomuani è un ottimo calciatore lo sta dimostrando assolutamente al Nant ma così come Onguene un difensore relativamente giovane perché non è giovanissimo però ancora giovane classe 97 assolutamente non possiamo definirlo vecchio possiamo definirlo come relativamente giovane di livello di spessore Salisburgo è sempre fatto abbastanza bene certo adesso bisogna vedere come può affacciarsi un campionato un po' più complicato come la Bundes in realtà comunque esigente come quella di Francoforte però è un altro acquisto parametro 0 ripeto funzionale e secondo me per il progetto Francoforte per i prossimi anni potrà essere più che utile ma così come il discorso uguale per Colomuani lo applica anche per Onguene che è un buon difensore e che può dare secondo me molto alla causa Francoforte detto questo io mi fermo ci vediamo in un prossimo video ci arriviamo grazie a tutti